Le scelte politiche non ci sono, la divisione tra i Paesi del Nord e i Paesi del Sud è acquita e quindi se l'ammontare del bilancio dell'UE dell'1% rispetto al PIL e gli Stati imbongono il pareggio di bilancio, io credo che non ci sia la possibilità di poter programmare ad oggi con questa politica uno sviluppo per l'Europa. Grazie.